Si è insediato ufficialmente il nuovo questore della provincia di Sondrio, Carlo Ambrogio Enrico Mazza. 60 anni, con esperienze nell'antiterrorismo e nella Digos di Milano, nell'antimafia, nell'intelligence e come esperto antidroga dell'ambasciata d'Italia in Venezuela, Mazza arriva a Sondrio da Varese dove è stato vicario del questore. La realtà valtellinese è una realtà molto particolare. Io sono curioso di conoscerla e di approfondire tutti gli aspetti che finora, pur essendo lombardo milanese, non ho avuto l'opportunità di approfondire. Conosco abbastanza la Val Chiavenna e sono, come dicevo, desideroso di approfondire la conoscenza del territorio. Ha detto di aver avuto modo di parlare con il suo predecessore, pur essendo una realtà tranquilla. Abbiamo però almeno una sfida e un problema. Se il problema è quello della droga nei boschi, la sfida è invece quella dell'appuntamento olimpico. Questi sono i due aspetti più importanti su cui concentrerò la mia attenzione e quella dei miei collaboratori. La problematica dello spaccio nei boschi è una problematica che conosco perché vengo da Varese, dove il problema è veramente sentito. Qua siamo forse in una fase, diciamo, meno problematica, ma questo non ci esime dal mettere sul campo tutto il nostro impegno per contenerlo e possibilmente per estilparlo. Per quanto riguarda le Olimpiadi, le Olimpiadi è una sfida epocale, una sfida epocale che riguarda tutte le componenti della comunità valtellinese. Noi siamo in prima linea e daremo tutto per poter assicurare alla comunità, la collettività, la riuscita di un evento che darà lustro al territorio. Attenzione può essere in quel caso un po' agli spazi eventuali di infiltrazioni mafiose, di criminalità. Siamo molto sul pezzo, su questo. Con la Prefettura lavoriamo in totale sinergia con le altre componenti del tavolo e quindi non lesineremo nessuno sforzo per evitare qualsiasi genere di infiltrazione. In mattinata l'accoglienza da parte del Prefetto Roberto Bolognese e la riunione di coordinamento con le Forze dell'Ordine su questione di sicurezza con riguardo anche alle prossime iniziative di richiamo come la tappa del Giro d'Italia Under-23, i mondiali di rafting 2023 e il percorso di avvicinamento alle Olimpiadi Milano-Cortina.